La squadra che mi ha copiato tutto il giorno, mi ha tenuto nelle prime posizioni, si è stata una volata molto confusa anche perché era molto veloce, sono contento con questo risultato perché viene dopo una settimana molto dura per me, dopo la caduta di Genova, ancora le cose non sono a posto, infatti fatico a rimanere anche in gruppo in alcuni punti della corsa, ci tenevo a fare questo risultato almeno perché non so le prossime tappe come andranno per me, quindi ecco, incogliamo questo risultato. Il po' di oggi era valonata ma appunto per questo ho fatto molta fatica, ero dietro nelle macchine, ma proprio perché con la caviglia non riesco a spingere al massimo, non posso anche fare i massaggi alla gamba sinistra, però speriamo che le cose cambino, questa volata come detto tu è incoraggiante, quindi dai speriamo bene, non sarà facile ma proviamo ad andare avanti.